Ciao a tutti e benvenuti al nuovo video di Giochi con me, giochi per bambini. Oggi giocheremo insieme a Kids Doctor. Giocheremo insieme quindi al gioco del dottore per bambini oppure al pediatra. Iniziamo subito. Eccoci qui. Kids Doctor, schiacciamo Play. Questi sono i nostri pazienti che dobbiamo andare a curare e questi sono i vari ambiti che si possono trattare. Quindi iniziamo col curare questa paziente, poverina deve essere caduta con la bicicletta. Quindi noi passiamo subito a rimuovere queste foglie, questi aghi di pino che ha sulle mani, sulle braccia. Ecco qui. Togliamoli tutti. E adesso dalla nostra borsa del dottore uscirà uno strumento che ci servirà per curarla. Quindi abbiamo uno spray, uno spray da applicare sulle ferite. Benissimo. Ecco fatto. Thank you. E adesso arriverà qualcos'altro da utilizzare per curare la nostra paziente. Ecco qui un cerottino. Ops, è finito nella spazzatura. Devo capire come fare ad applicarlo. Questo cerottino zebrato. Molto carino. Ecco fatto. Adesso un altro. Dobbiamo applicare questi cerottini sulle ferite. Poi abbiamo questo qui, color giraffa. E anche questi due li applichiamo. Perfetto. Thank you. Ecco fatto. La nostra paziente è contenta. Vedete scendono dall'alto questi palloncini a forma di animaletti. E adesso vediamo un po' cos'altro trattare. In questo caso, la nostra paziente ha il braccio gonfio. Quindi dobbiamo andare ad aggiustare queste ossa come se fossero un puzzle. Quindi mettiamo tutti i pezzettini al loro posto. E voilà, perfetto. Il braccio si è sgonfiato. Eccolo lì, vedete? E adesso dalla nostra borsa del dottore esce un vendaggio. Quindi lo applichiamo sul braccio. Thank you. Ecco fatto. E poi abbiamo anche una pillola da far prendere alla nostra paziente. Eccola qui. La medicina che sconfigge tutti i batteri cattivi. Benissimo. La nostra paziente è guarita. Anche in questo caso i palloncini scendono dall'alto. Benissimo. Adesso possiamo scegliere un altro ambito da trattare. Ecco qui. Guardate un po'. Ha la guancia gonfia perché, attenzione, attenzione, i denti della nostra paziente sono molto molto sporchi. Quindi, probabilmente ha mangiato molti dolciumi, molte caramelle. E noi utilizziamo questo strumento per rimuovere tutti questi residui di cibo. Quindi andiamo a toglierli in questo modo. E adesso dobbiamo togliere questo strato che è rimasto sui denti. Quindi, ah, guardate che carino questo spazzolino in forma di coniglietto. Noi andiamo a spazzolare per bene. laviamo i denti della nostra paziente e vediamo un po' che cosa succede. Siamo riuscite a togliere lo strato, però sono rimaste queste carie, quindi adesso dobbiamo sistemare questi denti. vediamo un po' che cosa utilizzare. Abbiamo questo trapano con un papillon e gli occhiali e andiamo a rimuovere queste carie, quindi togliamo tutto così. e adesso è rimasto questo dentino. Aha, dobbiamo fare una puntura alla nostra paziente e vediamo un po' il dente se riusciamo a strapparlo, eccolo qui perfetto si è sgonfiata la guancia la paziente è guarita benissimo palloncini che scendono eccoci qui nel menu principale con i nostri pazienti possiamo cambiare paziente e anche questo paziente è caduto come quella di prima quindi dobbiamo rimuovere le foglie, gli aghi e bene, quindi questo era Kids Doctor spero che il video vi sia piaciuto se vi è piaciuto condividetelo con i vostri amici iscrivetevi gratuitamente al mio canale così da essere sempre informati sui nuovi video io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima ciao